Era lecito attendersi anche l'uscita di scena di Castaldo dopo l'arrivo di Pezzati e così è stato in casa San Giovannese. Il difensore lascia il gruppo azzurro dopo 14 presenze, purtroppo per lui, al di sotto del livello della carriera e soprattutto liberando la società da un rimborso particolarmente importante, visto che tra esborso e affitto sono sfiorati 2.500 euro. Contro il Montemurlo domenica non si registrano particolari assenze, ad eccezione fatta di buono, ancora fermo per uno stiramento corso e che gli consentirà di essere convocato solo per città di Castello. Tre pedine importanti invece non saranno a disposizione di sette soldi negli ospiti che perderanno per squalifica un uomo per reparto. Oltre all'ex di turno Danucci in azzurro ai tempi della C1, anche il difensore Pratali e l'attaccante classe 96 Silipo, anche se le assenze possono essere compensate da una rosa piuttosto lunga. Prevista ancora la difesa 3, con l'ultimo arrivato Pezzati già titolare per la Sangio, fiducia a Bettoni in porta, davanti Regoli e Bucaletti con Vezzi alle loro spalle, possibile scorcio di gara a match in corso per De Angelis, l'altro nuovo acquisto.